Non si fermano le manifestazioni di solidarietà da parte del mondo del tennis a favore di Porto Rico, messo in ginocchio dalla furia degli uragani Maria e Irma abbattutisi sul piccolo stato una decina di giorni fa. A dare il là alla prima raccolta fondi era stata la leggenda locale Monica Puig, che qualche settimana fa, ha lanciato un importante fundraising sulla piattaforma Yowcaring, già raccolti oltre 110.000 dollari, e la medaglia d'oro di Rio 2016 è stata presto spalleggiata da Maria Sharapova, la quale ha scelto di supportare l'isola caraibica destinando alla causa il ricavato delle vendite dei prodotti su Garpova fino alla fine dell'anno. A tali essenziali iniziative si è accodato ieri Nick Irgios. Il numero 19 del ranking ATP aveva inizialmente reso nota la decisione di devolvere 10 dollari a sostegno della popolazione colpita dalla catastrofe per ogni ace messo a segno da qui alla fine della stagione, per poi decidere, pochi minuti fa, di alzare l'offerta a 50 dollari.